Buongiorno, oggi nella mia cucina ho dei calamari freschi da friggere. Dopo averli puliti li metto in un sacchetto con della farina per poterli infarenare. Ho dovuto scuotere per bene il sacchetto così si sono ben tutti infarenati e ora li metto nell'olio a freddo, dopo aver messo abbastanza olio nel pentolino. Un 4 cm di pentolino deve rimanere vuoto così non rischia che l'olio sale e va di fuori. Quindi facciamo sì che si bagnano tutti, che vengono tutti immersi. Copro col baby il diametro 16 e vado ad accendere il gas. Fiamma alta, però facendo in modo che la fiamma non vada fuori dal fondo del pentolino. Mai la fruttura a fiamma proprio bassa e mai diminuire la fiamma mentre si frisce. controllo, nel controllare sposto la pentola dal fuoco se no basta un attimo che va ad alta temperatura e addio poi la fruttura che non fa male perché lasciandolo sulla fiamma senza coperchio la temperatura sale. Salendo la temperatura l'olio libera sostanze tossiche perché tocca la soglia a fumo. Ora sono ben colorati e ben fritti e a volte a me piace lasciarli senza togliere la pellicina del calamaro. Naturalmente è una fruttura asciutta ma già il modo come li prendo si prende anche un po' d'olio e io per mia abitudine metto la frittura in quello che mi capita in un cestello in modo che l'olio superfluo va via. Ora deve inserire. Quindi inseriamo l'altro pesce. La prima frittura l'ho fatta a freddo, ora la sto facendo a caldo e quindi non ha importanza sia che si fa freddo sia che si fa caldo. Anzi, questo si farà prima dal momento che non deve riscaldare l'olio. Questo pentolino è molto comodo, io lo uso tantissimo per fare queste porzioni di frittura. L'azienda è da anni ormai che lo dà in regalo. infatti il pentolino con il peppy, come vedete, non è mai stato in vendita ma si dà nelle dimostrazioni. quindi bisogna cercare di conquistarselo. Come vedete è molto utile e va abbastanza alimento. Ok, vedete io riesco a toccare anche l'olio perché non è stato ad alta temperatura. Torni a coprire e continuo a fare questa seconda frittura. Ricontrolliamo questi altri, aspettiamo un attimo che i vapore vanno giù. Ok, perfetto anche questo. Andiamo a toglierli. e andiamo a inserire gli altri. Quindi questa è la terza frittura. Serve nello stesso olio. Ok, andiamo a coprire. Ok, togliamo questa altra frittura. e ora vado ad inserire la parte superiore del calamaro. Questi erano calamari abbastanza grossi. Vedete, sto friggendo senza schizzi, senza sporcare niente, senza puzza di pesce per la casa, niente di pesce e niente di fritto. Con un pochino d'olio sto friggendo tutta questa roba. Andiamo a togliere anche questi. e sempre nel cestello, in modo che si libera quel poco di olio che si prende col mestolo. andiamo a inserire gli altri. Ok, e quindi ci sono più... vedete l'olio che sta liberando è proprio quel goccino d'olio che si prende col mestolo nel togliere i calamari quindi in realtà fritti con magic cooker i calamari non assorbono olio sono altrimenti se ne sarebbe liberato di più nel piatto ma solo quel pochino ripeto che si prende col mestolo al momento di togliere il pesce però se io non usavo cestello quell'olio sarebbe rimasto nel pesce e l'avremmo mangiato quindi avremmo inserito ancora di più calorie pronta anche quest'altra io i calamari preferisco friggerli a piccola quantità così la fruttura viene ancora meglio e in questo pentolino così consumo pochissimo olio ed è ancora e l'olio commesso si può dire che è ok 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 Grazie.